La pelle per eseguire il trattamento deve essere preparata in modo adeguato e abbiamo dei prodotti appositi per fare questa funzione. Una crema è un'iperidratante perché essendo che il laser è una corrente e la corrente si trasmette meglio in un ambiente acquatico piuttosto che in un ambiente arido, se le nostre cellule del bulbo sono ben idratate riusciremo a fare il trattamento nella maniera ottimale. Un altro prodotto invece è un levigante e ha una miscela di quattro acidi appunto per levigare la pelle ma non ha dentro i grani, è proprio un'emulsione, quindi è anche molto piacevole da utilizzare. Viene applicata nella pelle con una semplice crema e serve appunto per togliere tutto lo strato corneo, nel senso che tutte le cellule morte vengono rimosse e quindi il laser riesce a lavorare su un terreno diciamo completamente pulito. In questo modo riesce a penetrare bene la luce e quindi il risultato appunto sarà nettamente migliore.